completamente struccata e con i capelli fradici ma tanto per i fini non devo essere in tiro no? non mi devo sbrigare perché altrimenti si sveglia la piccola e non ho più tempo di fare questo video ciao forse sono anche un po' in ritardo però vabbè insomma è ancora inizio aprile quindi possiamo fare i finiti di marzo sono quasi tutti finiti di skin care viso ho accolto la vostra richiesta di separare il make up dalla skin care dalla body care perché mi avete detto che preferite li preferite separati quindi vabbè poco male perché tanto i finiti di make up sono quelli che sono più lenti a finire e quindi va bene ci sta che ne raccolgo un po' e poi li facciamo tutti insieme l'unico prodotto hair care che ho è questo shampoo anticrespo di hand questo mi è piaciuto tanto ha il pro che si trova al supermercato e costa molto poco quindi ottimo è uno shampoo che contiene proteine adatto al metodo al curly hair my curly method curly hair method rivista e corretta all'italiana è uno shampoo delicato un low poo io l'ho usato con grande soddisfazione non mi seccava i capelli aveva quella quota proteica che i miei capelli piacciono i miei capelli non piacciono tantissimo le proteine devo stare molto attento ma questo ne aveva la giusta quota quindi la va bene è delicato appunto non mi dispiace potrei ricomprarlo soprattutto appunto perché costa poco e quindi e si trova al supermercato quindi in problemi in momenti problematici di rieverimento di prodotti questa è una buona soluzione ho finito questa acqua ayurvedica di rasayana da Adri quella lenitiva mi è piaciuta molto è finita velocissimamente questa in realtà sono 100 ml quindi non è pochissimo il flacone è stupendo è di vetro bello pesante è stupendo però devo dire che io l'ho finita in pochissimo tempo sarà che è piacevole da spruzzare ma me la spruzzavo la mattina come tonico ed è finita in un lampo comunque è effettivamente lenitiva è un buon prodotto potrei ricomprarlo se non fosse che io poi mi piace tanto cambiare quindi vabbè però questo è un buon prodotto finita anche la airy defense la protezione solare viso di zoe questa è una protezione solare che mi piace tantissimo perché è un latte ovviamente vabbè non ve lo posso far vedere ma è molto liquido ha questo applicatore questo dosatore in questa maniera è molto liquido e va benissimo sotto al trucco perché veramente si spalma molto bene ne potete mettere la quantità giusta perché come forse sapete la protezione solare va applicata in grandissime quantità quindi bisogna trovare una formulazione sotto al trucco soprattutto che possa andare bene anche in grandi quantità e questo effettivamente lo fa non mi ha mai dato problemi di peeling quindi è un buon prodotto questo l'ho comprato e ricomprato per dirvi quanto mi piace e ne ho già uno in scorta quindi è un ottimo prodotto uno dei miei preferiti ho finito anche tutti e due i contornocchi di Vera Lab estetista cinica non mi hanno fatto impazzire allora io usavo D-Puff la mattina vi faccio vedere D-Puff ha l'applicatore in questa maniera vedete ha tre palline di ferro che dovrebbero aiutare la mattina quando avete gli occhi magari un po' più gonfi a decongestionare in realtà io questo non sono mai riuscita a usarlo benissimo perché la formula è molto molto liquida per cui quando andavo a metterlo sul contornocchi mi colava e per cui non facevo mai in tempo a massaggiarlo con l'affarino è molto liquida adatta sotto al trucco però adatta a chi non ha un grandissimo bisogno di idratazione se invece avete borse che dovete sgonfiare questo potrebbe andare bene un po' leggerina per me è anche Golift questa di buono però aveva e che mi ha molto aiutato il fatto che si può mettere anche sulla palpebra perché di solito con tornocchi a meno che non ci sia scritto non possono essere messi anche sulla palpebra vanno messi solo sull'osso qui e sulla arcata sopraccigliare invece questo può essere messo anche sulla palpebra a me è molto aiutato quando ho avuto degli sfochi di allergia io soffro di rinite allergica a volte mi si gonfia tutta questa parte qui e anche mi fa dei piccoli sfoghi sulla palpebra come se fosse un po' di dermatite e questo è stato molto d'aiuto non vi dico che se avete la dermatite vera seborroica atopica o quello che è ve lo potete usare e andrà bene però se avete come me dei problemi di rinite allergica in alcuni periodi dell'anno questo in casi leggeri diciamo può essere molto utile se avete grossi problemi di idratazione no io questo lo usavo la sera e per me era un pochino poco per cui non credo che lo ricomprerò però insomma non posso dire che sia un prodotto bocciato butto anche se non sono finiti questi qui i facial reliance pads di first aid beauty ne mancano pochissimi in realtà però mi si sono completamente seccate ecco ne mancavano tre quindi non è che fosse chissà cosa questi sono dei pad li faccio vedere da vicino dei pad imbevuti di soluzioni di acido glicolico da una parte hanno questa trama un po' così anidotate e invece di là sono lisci anche se qui si intravede la trama dell'altro lato in pratica voi li utilizzate come se fosse un leggero scrub una cosa leggermente esfoliante ma l'esfoliazione arriva più dal fatto che sono all'acido glicolico che non dal movimento del tessuto sulla pelle questi sono carini l'unico problema che hanno è che il loro pow è abbastanza breve perché è di ah no neanche è di 12 mesi però evidentemente io l'ho usato molto poco il problema che hanno è che non avendo niente a parte il tappo e il cioè non c'è una specie di sifter non c'è un altro strato che protegge i pad e quando quando succede questo a me di solito si seccano non so se a casa mia c'è un ambiente che non è adatto a questo tipo di prodotti se è troppo secco troppo troppo umido non lo so però ho fatto stacca e a me si sono seccati erano ripeto gli ultimi tre che mi sono rimasti per cui non è una grave perdita però insomma tenete conto di questo adesso che rileggo il pow 12 mesi non è neanche poco quindi forse insomma si possono finire se non siete come me che ve li scordate si possono finire facilmente in un anno perché sono 28 pad quindi se anche non li usate tutti i giorni come di solito non si usa l'acido glicolico tutti i giorni a meno che non si sta facendo il trattamento comunque dovreste riuscire a finirli in un anno tutti gli altri prodotti che ho finito che sono già discreeti adesso li vediamo sono tutti prodotti che mi hanno conquistata non so come mai ma questo mese è andata di lusso per cui ci sono tutti i prodotti che mi piacciono allora partiamo dai trattamenti luce di camelia queste sono le perle di luce in pratica ho tenuto il blister vengono in blister così come se fossero medicinali e in ogni blister ci sono delle capsuline così avrebbero un cappuccio voi lo togliete fate uscire quello che c'è dentro e questo è un trattamento alla vitamina C di biofficina toscana una cosa a me è piaciuto tantissimo tantissimo questa è della linea appunto alla camelia ho voglia di provare tutto perché se tutto è come tutto di questa linea è come questo prodotto mi piacciono tantissimo peraltro io li usavo loro dicono di usarli di abbinarli non mi ricordo se all'essenza o al siero della stessa linea io siccome non l'avevo ma avevo quest'altro prodotto di sandawa che anche è alla camelia lì è una essence questa una essence intensiva multi action li mischiavo a questa quindi la sera facevo questo miscuglino sulla mano ci mettevo un pump di questo una perla di luce e me lo spalmavo sulla faccia una cosa stupenda anche questo è un prodotto molto carino mi sto un po' appassionando alla cosmesi coreana e a breve avremo delle delle novità su se tutto va bene dovremo avere delle novità in fatto di cosmesi coreana anche per voi quindi sono molto contenta e questo è un bel prodottino la cosmesi coreana come forse sapete è tra le migliori cosmesi del mondo loro sono molto fissati con l'aspetto della pelle e devo dire che la cosa si vede perché di tutti i prodotti che ho provato veramente ce ne sono tanti che che mi sono piaciuti tante chicche veramente bei prodottini altro prodotto di cui mi sono innamorata che arriva proprio dalla cosmesi coreana è questo qui questo è il Cica Clear Cleansing Oil era un olietto struccante ve ne ho parlato anche su instagram è un olietto struccante io non gli avrei dato due lire allora ha un profumo fantastico di limone di agrume meraviglioso se non vi piace il profumo di agrume lasciate perdere non è chissà che persistente però si sente a me fa impazzire quindi mi piace moltissimo ed è un olietto che io non gli avrei dato due lire per struccare e invece struccava benissimo tra l'altro contiene Cica quindi centella asiatica ed è perfetto per lenire gli sfoghi io l'ho usato quando avevo la pelle molto infiammata e l'ho amato perché veramente leniva benissimo struccava benissimo puliva la pelle benissimo un prodottino stupendo io ho questa che praticamente ha una mini taglia ma se fanno la confezione quella grande dovrebbero farla ma non ne sono sicura al cento per cento se la fanno lo voglio assolutamente ricomprare perché è stupendo la marca è Cosrx Cosrx non lo so come si legge però è una marca abbastanza rinomata famosa soprattutto per le pelli impure acneiche vorrò provare altre cose di questo brand e quando le proverò sicuramente ci metterò un'altra di queste dei prodotti di cui vi avevo parlato nell'all in cui li ho comprati alla fine dell'anno scorso sono questi due e io li ho comprati da Cult Beauty Cult Beauty è il mio paradiso vorrei comprare tutto quello che c'è ma andiamo con ordine allora questo qui è Medicaid Bakuchiol Peptide è un olietto in pratica che si metteva a fine a fine skin care a un dosatore di questo tipo qui oppure qualche goccia ancora che c'era rimasta si mettono sei o sette gocce lo dicono proprio loro la quantità da mettere a fine skin care quindi come se fosse una sorta di lock in un olio di lock in che però contiene Bakuchiol e peptidi questo simil retinolo che non ha tutte le caratteristiche più negative del retinolo che può essere anche irritante su pelli sensibili quindi va benissimo per pelli sensibili come la mia che però ha appunto tutti invece i lati positivi per cui è ringiovanente rimpolpante combatte le rughe ed è anche lenitivo per cui per me per la mia tipologia di pelle questo è perfetto ed è un prodottino veramente carino mi sto appassionando ai trattamenti che vanno a chiudere la skin care ce ne sono diversi questo mi è piaciuto mi è piaciuto parecchio anche questo potrei ricomprarlo se trovo un buono sconto perché purtroppo Medicaid non è particolarmente economico però fa dei prodotti che secondo me sono veramente molto buoni e questo è tra cui ci ha raggiunto un'amichetta quindi mi devo sbrigare per fortuna non mancava moltissimo l'altro prodotto di cui dicevo vi parlavo perché vi ho già parlato perché me ne ho parlato nell'all dove l'ho comprato è questo qui un gel alla vitamina C di Disipol il triple C gel questo ha un odore erbaceo che vi fa proprio venire in mente la vitamina C cioè proprio come dire è un'esperienza completa sia di sulla pelle che anche nel naso è un gel piuttosto denso è un gel piuttosto denso che però si assorbe molto facilmente è anche questo un buon prodottino l'unico problema che ha questo prodotto è che ha questa confezione di vetro scuro molto bella ma l'erogatore che è questo qui a pump normale insomma normale di plastica che fa che prende dal l'erogatore normale insomma madonna oggi non riesco a parlare in realtà quando arrivi già praticamente a un terzo dalla fine già non preleva più tanto bene il prodotto il che fa sì che tu debba aprirlo e scavare con questo non è proprio la cosa migliore dal punto di vista igienico diciamo però vabbè il prodotto in sé mi è piaciuto molto quindi pure questo potrei valutare di comprarlo mi sono piaciuti tanto anche questi questi sono real beauty miracle patches presi su amazon raga sono dei patch allora questi sono quelli sono così anche di questi avete un post su instagram in pratica ci sono dei dei piccoli cerottini trasparenti che si mettono sulle imperfezioni questi sono quelli che vanno sulle imperfezioni quelle cisti un po' gonfie un po' dolorose che ancora non si sono trasformate in veri e propri brufoli ma che fanno male e questi sono molto carini ancora meglio che sto già affinando purtroppo anche quelli li vedrete sicuramente tra i finiti del mese prossimo quelli che vanno sulle imperfezioni che invece già sono uscite cioè sul brufolo vero e proprio mi sono piaciuti e penso che adesso adesso che ho scoperto questa cosa dei patch voglio provare tutti i patch in commercio perché è una cosa molto carina questi sono buoni perché non sono aggressivi ce ne sono altri quelli proprio per l'acne di alcuni brand che invece sono più aggressivi e a me hanno fatto degli sfoghi che non mi sono tanto piaciuti ne parleremo però insomma questi sono evidentemente hanno dentro anche dei prodotti non dei prodotti degli ingredienti lenitivi perché non danno fastidio anche alle pelli più così infastidite tra virgolette scusate il gioco di parole come la mia ultimo finito è questo Reviving Growth Infusion Cream Cleanser di Aromatica io questo l'avevo comprato perché pensavo che sarebbe stata un'ottima prima fase di detersione della doppia detersione quindi lo avevo immaginato come una cosa cremosa appunto che potesse fare togliere sciogliere diciamo per affinità il trucco e il sebo in realtà no questo è più adatto alla seconda fase della detersione peraltro è piuttosto aggressivo come come cleanser io lo dovevo abbinare a delle cose oleose come questa qui per far sì che non mi desse fastidio proprio sulla pelle per non sentire tirare la pelle dopo quindi va benissimo per le pelli più grasse oppure appunto se avete una pelle come la mia più normale sensibile va abbinato a una cosa piuttosto oleosa prima da solo non lo consiglierei ha la classica consistenza che hanno o almeno io tutti i cleanser di così di origine coreana giapponese che ho provato avevano tutti questa strana consistenza è una specie di crema che però sembra come cerosa quando la tendete anche quando la toccate rimane un pochino molto consistente sembra proprio un po' come cera non mi fa impazzire la consistenza però in sé il prodotto è molto buono peraltro anche questo made in corea aromatica è un brand ottimo è un altro di quei brand che vorrei che vorrei approfondire di cui vorrei insomma provare altri prodotti aggressivo quindi state attenti però non mi è dispiaciuto ultimo prodotto che butto che non sapevo se mettere nel make up o qui però non ve lo beccate qui è questo questo è uno dei miei pennelli preferiti di sempre avrà forse 10 anni e gli è successo questo ogni volta che lo uso mi si apre in mano e quindi lo voglio buttare non so se l'ho detto è il complexion brush di elf ed è un bellissimo bellissimo pennello per le polveri viso questo fa parte della linea studio di elf io non so come si sono organizzati adesso con elf come funzionano adesso i loro pennelli però devo dire che un tempo avevano delle chicche stupende nella linea studio di elf per i pennelli io ne ho tantissimi che mi piacciono tanto e che continuano ad usare a distanza appunto di 10 anni questo è uno di quelli ovviamente può succedere dopo 10 anni questa cosa qui questi erano pennelli che pagavi meno di 5 euro l'uno ma molto meno di 5 euro l'uno per cui ci sta che che possa possa un po' essere non eterno come pennello però mi dispiace tanto perché invece le setole sono stupende non ne ha mai persa una sono morbidissime bellissime solo che tutte le volte che lo uso mi rimane in mano quindi vabbè ho detto forse è il caso che lo mandi in pensione e quindi succede questo lo sto mandando in pensione anche se ci sono molto affezionata perché questi sono i primi pennelli veramente che ho comprato quando Elf ancora prima che andasse via e poi ritornasse quindi proprio parliamo di secoli fa e niente ci sono affezionate in realtà pure se è solo un pennello e quindi niente vabbè questo è quanto questi erano tutti i preferiti scusate tutti i finiti di questo mese come sempre se ne avete provato qualcuno fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate a me piace che nei video quando nomino qualcosa che avete provato mi diciate come vi siete trovati perché così facciamo un buon servizio a chi verrà a vedere il video per vedere se insomma l'effetto che fa un prodotto sulle diverse tipologie di pelle per cui se avete qualcosa da dire su qualcuno di questi prodotti scrivetelo nei commenti come sempre vi invito se non lo fate ancora a seguirmi a spingere il bottoncino con iscriviti al canale come sempre vi invito anche a seguirmi su Instagram dove sono molto più attiva perché invece di una volta a settimana ci sono quasi una volta al giorno in cui parliamo con molta più tranquillità di molti più temi e niente se il video vi è piaciuto mettete un like condividetelo se vi va e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao